Prevenire è meglio che curare e nel caso dei terremoti, se non si può prevedere il fenomeno, tanto invece si può fare per i cittadini, affinché possano essere istruiti sulle norme di comportamento da tenere in caso di un evento sismico. Questo l'obiettivo portato avanti dalla Papa Charlie, che in Piazza Sant'Alfonso, nei pressi dell'Editorium, ha allestito un punto di informazione ed educazione che rimarrà fino alla giornata di domani. Iuteremo i cittadini mediante la campagna informativa Terremoto Io Non Risco, che è promossa dal Dipartimento di Protezione Civile e Ampas Nazionale, perché noi insieme a 12 associazioni nazionali saremo in piazza, perché ci saranno altre 101 piazze che informeranno i cittadini sul corretto atteggiamento, sulle attività da fare in casa. Momenti ludici che si alterneranno, dicevamo, a momenti informativi, quindi quale sarà l'obiettivo? L'obiettivo è informare la popolazione. Noi abbiamo degli strumenti che sono appetibili, colorati, divertenti, che è il totem. E un altro, il totem, dove ci sono quattro facce, dove la popolazione giocherà con noi. E poi una linea del tempo, dove i terremoti che hanno interessato Pagani saranno segnati con le date significative, terremoti che sono stati più intensi. Pagani ha una memoria storica e noi cercheremo di far ritornare in mente questi terremoti, purtroppo, diciamo così, alla popolazione.